Sì, siamo anche quest'anno, ci stiamo preparando a questo appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso con gli amici della compagnia Il Sedaccio di Maranona che ogni anno ci vengono a proporre una loro opera, quest'anno sarà arricchita anche dalla lettura di alcune poesie del nostro conterraneo Enrico Mallozzi, il nostro poeta ed altre poesie di attori locali che sono comprese in questo libro, dato dal Sedaccio nel quale se non va derrato ci stanno anche poesie del nostro caro concittadino il maestro Antonio Enrico che sono appunto piaciute talmente tanto da essere inserite in questo libro e questa è una cosa che ci inorgoglisce ed è un bando per noi e ringraziamo anche Antonio Verico e i suoi ragazzi per questa opera con la quale contribuiscono a portare alto sempre il nome del nostro paese quest'anno stiamo vivendo un Natale particolare come in tutta Italia e per questo anche le manifestazioni che stiamo programmando e realizzando sono all'insegna della sobrietà come si impone nel contesto in cui stiamo vivendo per cui abbiamo realizzato delle serate teatrali come occasione per stare insieme in queste serate anche di cattivo tempo e di aggregazione riportendo su temi seri ma in maniera ludica e ricreativa seguiranno poi altre manifestazioni fino all'epifania ma sempre ripeto all'insegna della sobrietà come scelta voluta dalla Prologo e anche dall'amministrazione comunale infatti anche nelle luminarie natalizie abbiamo deciso di applicare questo principio illuminando in maniera simbolica solo le piazze principali del paese io ovviamente ne approfitto per fare auguri visto che siamo in tema a tutti coloro che vedranno questo filmato su Facebook e tutti quindi gli affezionati di TeleFacebook tutti gli amici e anche i non amici che ci devono su TeleFacebook quindi che diventeranno i nostri futuri amici su questo nuovo mezzo attraverso il quale siamo tutti in collegamento e del quale ringraziamo Antonio Vesico che veicola i nostri messaggi e le nostre manifestazioni attraverso questo strumento l'associazione culturale Il Sedaccio di Marannola ormai possiamo dire che è di casa qui a Santissimi Cosmi e D'Amiano ogni anno puntualmente come diceva il grande Totò noi siamo qua per portarvi una delle mie commediole che annualmente rappresentiamo nella settimana del teatro amatoriale devo ringraziare l'amministrazione comunale di questo comune e soprattutto il vice sindaco Vincenzo Vedrucelli che anche lui ci segue e quindi ci fa l'onore di invitarci in questo bellissimo teatro poche ce ne stanno in tutta la zona come queste perché veramente è accogliente e predisposto per l'occasione la commedia che stasera vi presentiamo io l'ho intitolata Il Sindaco con la pistola cioè sembrerebbe diciamo di questi tempi soprattutto venendo da Formia un paradosso ma invece io non mi riferisco all'amministrazione sindaco del tempo ma è una commedia che io ho riscoperta nel senso risorgimentale cioè questo sindaco in effetti è un sindaco che è vissuto subito dopo l'Unità d'Italia è diventato sindaco nella frazione tra Trivio e Maranola e quindi egli è agito già per avviare questa Unità d'Italia ecco perché stasera mi piace di dare un messaggio è un sindaco e poi veramente un personaggio determinato lo chiamo la pistola perché in quei tempi si andava armati e lui non solo era armato per motivi personali ma soprattutto era armato perché andava in quei tempi subito dopo l'Unità d'Italia sapete c'era stata la rivolta degli ex diciamo affezionati alla casa borbonica e quindi briganti sui nostri mondi aurunci ce ne sono stati diversi e questa sera io parlo proprio di uno di questi briganti chiamato Francesco Piazza soprannominato Coccetto e quello è stato perseguitato proprio dal sindaco di Maranola e attraverso lui l'intervento personale del sindaco stesso è riuscito a catturarlo quindi la commedia si presta proprio in questo scorcio di chiusura dell'Unità d'Italia si presta proprio per ricordare questa Italia che i nostri padri combatterono per farla unita e speriamo che riesca a rimanere tale anche in questi momenti di crisi questa sera inoltre l'associazione Sedaccio si fa promodrice insieme alla scuola elementare di San Cosme Damiano e soprattutto al collega, al maestro Antonio Verrico che ha seguito la nascita di questo nostro quattordicesimo volume di poesia per tutte le età e tutte le stagioni è un opuscolo che noi annualmente stampiamo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Formia e soprattutto con l'assessorato alle politiche sociali Giuseppe Triglia qui raccogliamo le poesie non solo degli anziani formiani ma anche di ragazzi, giovani, giovanissimi e bambini come quelli che quest'anno abbiamo voluto raccogliere nella scuola di San Cosme Damiano un ringraziamento va anche oltre al maestro già citato anche alla dirigente scolastica Angela Falso che si è dimostrata disponibile a permettere ai suoi alunni di partecipare a questa iniziativa e benvenuti a questa serata teatrale per sedaccio che vi presenterà una commedia e due atti di Antonio Forte e il sindaco maestro prima di cominciare vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di San Cosme nel nome di Vincenzo Petruscelli vice sindaco che ha organizzato mi sembra anche ieri hanno fatto un'altra serata quindi lo ringraziamo per l'invito e ringraziamo per l'invito che puntualmente ogni anno Lui ci fa e noi siamo ben lieti di venire a farvi il vostro teatro l'amministrazione comunale di San Cosme e noi siamo ben lieti di venire a farvi il vostro teatro l'amministrazione comunale di San Cosme e noi siamo benvenuti a farvi il vostro teatro l'amministrazione comunale di San Cosme e noi siamo benvenuti a farvi il vostro teatro e poi mi devi fare una cortesia non chiamarmi con quel patè che mi sta tanto di pasticcio francese pasticcio e come vai già chiamare? mamma mi ha sempre detto che voi mi avete vaffiato e ne vai già mancare di rispetto perciò vai già chiamare patina tu non ti preoccupare di fronte agli strani mi chiami signora anzi no chiamami donna celeste allora ti chiamerò signora donna celeste a poco a te no, no, va bene se non mi chiami va meglio allora ti volevo dire che mancano le posate qui non ci sono per tutti ma come non ci sono per tutti? che altro ci sta? perché se parte a Dandicella e sulle montagne non mancano i mascarponi hai fatto bene mamma quando si può fare un'opera buona non bisogna mai girarti indietro quando il zucchero fa Giovanni? non prendo il capello lascia Maria che ci penso io che siete amici per la pelle e che insieme parlate sempre del re ma tuo figlio e frate mi ha detto di starti attento che i denti sono pericolosi anzi no, no, devo andare perché Giovanni mi ha promesso di farmi vestire col cappuccio della congrega poi se vado tardi se lo mettono gli altri io resto sempre non ti preoccupare vieni qua ma fai colazione che il cappuccio te lo conserva tuo fratello ma no ma dai ti costa la montagna di sorti come fai? cioè se sei fatto bene i conti ce la facciamo? e Carlo tra un paio d'anni si dovrebbe laureare e comincerà a esercitare solo l'altro Angelo per diventare medico ci ha un po' di tempo in più ma quanto sarà? anche a costo di fare qualche sacrificio anche Leonardo dovrà studiare femmina basta una buona dose di un matrimonio azzeccato e si streperà pure lei e quale sarebbe questo matrimonio azzeccato papà? eh Lucì tu stai a sentire fai le vostre papà ti ho già detto un'altra volta che se tu pensi per gli altri per me no io la mia vita me la vedo da me ma senti le rovine indipendente ma perché non vai a farti monaca così mi stanno vedendo tutti i problemi monaca no no proprio domenica prossima alle 12 alla Villa Caposele la Contessa Monzano della Ferretta ha convocato tutte le giovani disponibili per fare l'assistente che assistente? per assistere le malate sì donna ma noi abbiamo Giancione che fa il medico a che serve questa assistente malata? perciò se lei studia da assistente potrà aiutare il fratello e il bar magia Maria Maria ma di che c'è? e vedi se lì su c'è abbastanza caffè al latte che deve scendere ancora Carlo a fare colazione e c'è rimasto solo un po' di caffè porto l'abbè quello e poi per Carlo vai a fare dell'altro e senti cerchi di non fare una ciopega come questo perché quello sta studiare a Napoli e lì il caffè è un'arte eh ma che lì è l'acqua di Napoli che fa usci il caffè buono così mi hanno detto che noi usiamo l'acqua della cisterna ringraziamelo bene stanotte benissimo qua si dorme meglio che a Napoli papà eh certo lì fa più caldo eh non solo ma la notte a tutte le ore passano le carrozze e quelle ci sono streggiato fanno un rumore che sembra un del revolto signor è una miseria ma via porta l'altro latte e caffè eh non mi chiamano tutti lo mamma lo sono mancato a Napoli eh come ogni volta che viene ti fa portare una sforza ma non la ma sono troppo buono finiscono subito da più ma via porta il latte buongiorno e poi tornato grazie grazie ogni volta che torno ti trovo sempre più bella perché le pene guadini che fanno a Napoli eh eh sì sono bella ma sono buzzi buzzi tu tu invece sei tutta una cosa ma hai occhi gli occhi i biscotti il segno dei due dei borboni si chiama il regno delle due Sicilie una è l'isola e l'altra qual è? però caroluccio queste cose le sai quando torna ve la faccio spiegare eh Maria Maria vieni qui eh perdona vai qui non l'avevo sentuto tu non so come tu vieni in giro per casa eh me ne spandiamo di panna non può pallascare non so per il mercato di sotto vai subito va bene va bene qui va va subito va bene non so come tu va bene qui il va bene qui Grazie.